Ecco, Mirko ovviamente è un appassionato perché quando ci siamo detti faccio questo lavoro anche come hobby, vero Mirko? Sì, sì, per ora è nata come passione e stiamo crescendo per farne un... Diciamo qualche numero, primo anno di attività, quante bottiglie? Primo anno 3.000 bottiglie. Poi? A seguire? Siamo passati a 7.000 bottiglie con 5.000 di classico e 2.000 di superiore, è stata la prima andata con... Abbiamo sempre di verdicchio, eh? Sempre verdicchio. Il vino di punto è del nostro territorio, delle marche. Sì, noi nella nostra proprietà abbiamo un vigneto di 3 ettari impiantato nel 2015 e abbiamo fatto la prima produzione utile nel 2017 e da quest'anno abbiamo implementato il vitigno con due ettari presi in affitto sempre qui a Castelplanio, un vitigno storico. Che zona? Zona, località piagge, quindi rimane un'altitudine... Sempre verdicchio? Sempre verdicchio, 100%. Altitudine? Altitudine siamo sui 350 metri e quindi differenzieremo la qualità di uva e più soprattutto è un vitigno storico. Una parte è del fine anni 70 e l'ultima parte è dei primi anni 80, quindi siamo sui 40 anni di vigneto. È stata proprio una scelta aziendale, riprendendo un vecchio vitigno per ricreare quei valori che oramai con dei vitigni nuovi si stavano perdendo. L'obiettivo è di rigenerarlo quasi completamente e riportarlo a produzione piena. Bene, quindi un investimento che guardi al futuro con i tuoi vini. Ecco, dicci qualche nome del tuo vino. Allora, noi abbiamo un classico chiamato La Pietra e un superiore chiamato Calamos. Sono entrambi verdicchi 100%. La differenziazione viene fatta in vigna, prendendo una parte del vigneto e rendendo la produzione dedicata solamente per il superiore e un'altra parte di vitigno dedicata al classico. La differenziazione viene fatta anche nei tempi della vendemmia, allungandosi un poco la vendemmia per quanto riguarda il superiore e in più l'affinamento in bottiglia dove dopo sei mesi d'acciaio per un classico siamo due mesi di affinamento in bottiglia e circa cinque, sei mesi invece per il superiore. Ecco, diciamo che guardi al futuro, post bandenie domani riparte tutto, ormai andremo in zona bianca per 1 giugno e quindi si brinderà con i vini Calamos. Calamos è la pietra che poi prossima settimana andremo, inizieremo a distribuire l'annata 2020. E come lo chiamerete sempre? Sempre la pietra, solamente ripartiamo con la nuova annata e abbiamo imbuttigliato. Sarà un'ottima annata? Certamente, come le altre sicuramente andremo sempre... l'annata diciamo, ormai a settembre farete la vendemmia, no? Sì. E speriamo che venga un po' di pioggia a luglio così avrete un prodotto completo. Sì, sì, speriamo nella pioggia perché sinceramente adesso, ad oggi è un problema. Si rischia di vendemmiare ad agosto? Si rischia di vendemmiare ad agosto, si rischia di avere una produzione limitata e comunque la mancanza di acqua può comportare anche problemi di qualità. Però si parla di un luglio piovoso, dalle nostre meteo. Sì, speriamo di sì. Molto piovoso. Speriamo il giusto, ecco, perché a luglio comunque il vitigno ha bisogno anche di sole, quindi sarebbe opportuno qualche giorno di pioggia fatta bene, qui 30-40 mm d'acqua e poi comunque il sole che a luglio non deve mancare. Ecco, il vostro prodotto dove va? In quale territorio viene, diciamo, veicolato commercialmente? Allora, la parte commerciale la seguo io personalmente, sì. Siamo presenti nella provincia Ancona, qualcosina abbiamo nella provincia di Pesaro, abbiamo un piccolo distributore per quanto riguarda Roma, abbiamo portato i primi cartoni in Veneto, in zona dedicata al vino, dove hanno una gran cultura di vino, ma assaggiati i nostri prodotti, hanno dei locali, hanno deciso di puntare sul nostro verdicchio. Ristoranti? Sì, ristoranti e noteche. Sono quattro clienti e è stato con piacere, non tanto per la quantità, ma... Per aver rotto i ghiacci in un'altra regione. Sì, sì, in una regione, il Veneto, dove comunque hanno degli ottimi vini e quindi portare le nostre bottiglie in Veneto è stata una soddisfazione non tanto economica, ma... Il Veneto è la regione di Vinitaly. Sì, 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 quindi è stata una sorpresa, ma una gioia e poi hanno rifatto qualche ordine, anche loro stanno ripartendo piano piano, quindi andremo in consegna. Senti, l'enologo chi è? L'enologo, noi quest'anno ci siamo legati con Mirko Morbidoni. Sì, di dove? È un ragazzo che sta iniziando ora, alle prime armi, ci siamo incontrati, visto che noi siamo nuovi, lui è nuovo. Siete rimasti soddisfatti della collaborazione tecnica di Mirko? Sì, sì, sì. I due Mirko fanno questa energia? Sì, infatti è stata una bellissima coincidenza, ecco. Non solo nome, ma anche passione per il vino? Sì, sì. Bene, allora guardiamo al futuro con grande ottimismo, perché adesso si riparte e c'è voglia veramente di bere e di bere i vini dell'azienda Capriotti, Mirko e Sorella, come si chiama? Monia. Monia, che collabora in azienda nel ruolo di? Allora, innanzitutto, oggi purtroppo non è presente perché... No, ma la vediamo nelle immagini, nelle immagini fotografiche. La società è di Capriotti, Capriotti, Monia e Mirko, la titolare, la legata del presentante è mia sorella. Certo. Poi ci sono io, ecco, la titolare è lei, il capo. Oggi manca, ma visto che... No, no, ma la vediamo nelle immagini fotografiche e molto, diciamo, molto tranquillamente. Sì, lei si occupa quasi esclusivamente di lavoro in campo, dalla potatura alla potatura verde, quindi... Una scelta importante. Sì, è l'anima dell'azienda, sì, della vigna, conosce tutte le piante, tutte le zone e può dare un nome a ogni pianta.